Ciao a tutti da GamingTube Italia, benvenuti nella video guida definitiva di Final Fantasy VII Remake. Nel gioco sono presenti 26 incarichi, ma solo 24 possono essere completati, dato che nel capitolo 9 il completamento di alcuni incarichi ne causerà l'annunamento di altri. Solo i capitoli 3, 8, 9 e 14 hanno degli incarichi da completare. Andiamo quindi a vedere come completare l'incarico il medicinale segreto. Recatevi nel punto indicato sulla mappa per iniziare l'incarico. Il medico vi fornirà una lista di ingredienti per completare una medicina. Gli ingredienti in totale sono 3. Il mortaio Muguri, acquistabile nel negozio Muguri, nella tana nascosta dei bambini. Il fiore medicamentoso, trovabile per terra, nella chiesa. Ed infine il corno di Behemoth, ricompensa per l'uccisione del proto-Behemoth, avversario che si trova solo durante l'incarico ruggiti dal profondo. Vi lascio il link in sovraimpressione per questo incarico. Una volta che avrete raccolto tutti e tre gli oggetti, tornate dal medico per completare l'incarico. Vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a mettere mi piace e a condividere il video in modo da permetterci di continuare a portare contenuti sempre più belli e migliori per tutti voi. Grazie e alla prossima. Ciao! Grazie a tutti!